Il lago di Massaciuccoli potrà diventare punto di riferimento per l'attività canoistica nazionale. È stato infatti firmato il protocollo d'intesa fra il comune di Massarosa e la federazione italiana Canoa Kayak per la valorizzazione del lago di Puccini. Un accordo strategico per lo sviluppo in chiave turistica e sportiva, quello sottoscritto dal sindaco Franco Mungai con i vertici della FIC che in Toscana conta oltre 10 realtà associative. L'area di San Rocchino, quella al confine con Viereggio, è stata individuata dal comune per essere affidata tramite bando a più associazioni per attività sportive riconosciuta. La federazione dal proprio canto si impegna a portare sul lago eventi e gare nazionali e regionali, insomma una svolta attesa da tempo. Un accordo che darà dignità alle nostre società sportive, al nostro comitato regionale, darà uno sviluppo concreto alle attività della canoa in un ambiente fantastico nel rispetto della natura e quindi conforme ai valori che contraddistinguono la nostra federazione. Daremo come ho detto prima dignità a delle attività che meritano una struttura, che meritano delle attrezzature per far avvicinare da tutta Italia canoiste e canoisti che possono svolgere in piena tranquillità e in un ambiente naturale fantastico lo sport della canoa. Soprattutto perché noi siamo un'attività sportiva canoistica ma agonistica e anche naturalistica, in particolare attenzione dedichiamo all'ambiente e a tutto quello che ci circonda, quindi è veramente una cosa importante che oggi abbiamo fatto un passo concreto in questa direzione.